Buongiorno, sono Marc Benayun, amministratore delegato di Edison. Molto lieto oggi di firmare questo contratto con la società Ansaldo. Questo per noi è un momento molto importante, il primo investimento in tanti anni sull'impianto di generazione elettrica a gas. Si tratta del rifacimento quasi completo del nostro impianto di Marghera Levante vicino a Venezia. Un contratto per 350 milioni, un costo significativo, per rifare un impianto di 800 MW di potenza. Interessante perché è un impianto che porterà energia competitiva, ma anche molto flessibile per bilanciare la rete elettrica, quindi che porta un servizio altissimo alla rete elettrica italiana.